Calcati mentre comincia la partita, comincia all'anticipo della settima di ritorno di Serie A, Julian Sonna con la palla in mano per Venezia, la palla dentro per Peric, subito un canestro del Croato e l'uomo in più di Venezia, 15,4 punti a partita. Sono 12 punti di Peric, Pistoglia prova a reggire con Brown, gli portano via il pallone, ingenuità di Brown, Venezia in mano, il possesso del sorpasso, Dulkis si alza per la tripla, bersaglio, sorpasso Venezia. Dulkis con la palla in mano per Venezia, va da Ruzier, prova a superare Cinciarini, il passaggio per Ortner, tutto chiuso, si va da Dulkis, Ortner sotto canestro, trova il fondo della retina. Bel passaggio, bel canestro, Ortner grande. Inversione della palla, anche qualche passaggio indietro, Dulkis non perdona.